Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Calano i contagi ma aumentano le misure anticontagio nelle zone della Movida Mascherina obbligatoria nel lungomare e in piazza 20 Settembra Fano Piazza Andraccosta libera dalle auto e un'estensione della ZTL Ecco come cambia la viabilità nel centro storico di Fano Biodigestore Sindaco Seri replica al segretario del PD Non mi faccio commissariare da un politico, ASET non è in discussione Arrivati gli scogli a Sassonia di Fano, prorogata il 15 giugno, la fine della prima fase dei lavori Questa sera dopo il telegiornale la prima puntata di Colli al Metauro Riparte dalla bellezza al nuovo programma dedicato a musica e a borghi storici Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Nonostante il calo di contagi registrato nelle Marche nella provincia di Pesaro e Urbino Da domani anche nelle zone della Movida di Fano scatta l'obbligo della mascherina Questa mattina sono state stabilite le zone coinvolte Nelle quali saranno presenti le forze dell'ordine con pattuglie fisse Dopo tre mesi di nuovi casi positivi al coronavirus Ieri per la prima volta le Marche hanno registrato zero contagi È stata giusta quindi la previsione dell'osservatorio epidemiologico regionale Secondo il quale lo zero alternato si sarebbe verificato tra il 25 e il 30 maggio Oggi è risultato positivo solo un test su quasi 800 campioni analizzati A quanto pare però i numeri confortanti non sarebbero sufficienti ad allentare le misure anticontagio Infatti nonostante il bilancio più che positivo è arrivato uno stop alla Movida Selvaggia Da domani a Gavicce, Pesaro, Fano e Mondolfo sarà obbligatoria la mascherina Una restrizione adottata su proposta del sindaco Ricci Durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica L'obbligo sarà in vigore fino al prossimo 2 giugno Che cosa ne pensate di queste nuove misure? Secondo me comunque vista la situazione penso sia effettivamente il caso di renderla obbligatoria Anche perché comunque il virus non è finita come cosa completamente E quindi per tutelare tutti comunque penso sia una buona idea Sono d'accordo con lei, vedo che molti ragazzi la prenderanno molto alla leggera Durante la riunione convocata dal prefetto Vittorio Lapolla è stato previsto un aumento di controlli Il compito di vigilare su giovani e adulti spetterà all'esercito, carabinieri, polizia di stato e vigili urbani Previste anche pattuglie fisse in diverse zone della città Gli agenti della municipale amplieranno l'orario di lavoro Inoltre questa mattina c'è stato un comitato tecnico in questura Per decidere quali zone presidiare, ovvero quei luoghi in cui si prevede una maggiore aggregazione di ragazzi Attiveremo la pattuglia notturna già da questo weekend lungo Quello che abbiamo già individuato stamattina sono tutte le zone del lungomare Arzilla, Lido, Sassonia, Torrette e anche Fano Sud Quindi naturalmente tutto il lungomare viene considerato zona da presidiare E particolarmente il centro nella piazza Per cui in queste zone con un'ordinanza che stiamo andando a predisporre Ci sarà l'obbligo appunto della mascherina Per cui si ha la socialità però con le giuste attenzioni Quindi io faccio un appello anche a tutti i giovani e meno giovani Perché sono anche meno giovani a volte che sono un po' disattenti Ad utilizzare la mascherina o comunque mantenere le distanze di sicurezza Attenzione dunque agli assembramenti e a togliere la mascherina solo per bere e mangiare In caso di inosservanza delle disposizioni potrebbe scattare una multa da 400 euro Voi cosa ne pensate? Ah sì certo, ci vuole la mascherina assolutamente, soprattutto nei posti chiusi Entrambe le soluzioni sono utili allo scopo Quindi sia la mascherina che mantenere le distanze è necessario Sono molto vicina, la gente è molto vicina e penso che sia una misura preventiva valida Tanto è che la rispettino poi Non so, per esempio a questi giorni a Lido era un putifere, guarda Un casino, guarda, non poteva passare neanche una pattuglia di macchine perché Sì tantissima, ma poi con le mascherine tirate giù qua, capito? Se da una parte c'è chi è favorevole all'obbligo di indossare la mascherina nelle zone della movida Dall'altra c'è chi sostiene che piuttosto servirebbero più controlli delle forze dell'ordine Per garantire il distanziamento sociale Noi ogni 5 minuti diciamo ragazzi allontanatevi Il mio compagno addirittura bassa la musica e con il megafono cerca di fermare la serata E di dire allontanatevi, siete troppo vicini Per quanto noi ci mettiamo tutto l'impegno per tenerli lontani Comunque sono ragazzi che escono quando uno si diverte Magari poi non lo fa neanche a posto, si dimentica di quello che deve fare Quindi secondo me sarebbe più giusto Che invece di arrivare sei carabinieri o sei poliziotti in un locale Ne venga uno per locale che controlli magari per più tempo stesso locale Ed eventualmente se deve sanzionare qualcuno Mi dispiace perché comunque sono clienti Ma secondo me sarebbe più giusto sanzionare direttamente l'interessato Perché poi gli serve anche di lezione Perché se fanno la multa a me, fanno chiudere il locale a me E loro, chiuso il mio bar, comunque vanno in un altro locale Qui stiamo lavorando in due, ci racconta Maura Galli Perché l'incasso non ci permette di pagare i dipendenti Inoltre tra affitto e bollette le spese sono rimaste fisse anche durante il lockdown Poi anche gli affitti sono rimasti quelli Non è che qualcuno mi ha detto ti abbasso l'affitto Anzi noi abbiamo provato a chiedere e ci hanno risposto Se non riuscite a pagare tirate giù la serranda E andate a lavorare da un'altra parte Io ieri ho guadagnato tutta la giornata 120 euro Come posso pagare tutte queste cose? Affitti, luce, acqua, immondizia Anche l'immondizia a tre mesi non abbiamo lavorato Io non lo so che immondizia abbiamo fatto Tornando alle mascherine Sembra che il problema siano solo i locali Quando invece fa notare la barista Gli assembramenti e i contagi possono avvenire anche altrove Io ho visto che tanto anche il mercato la gente passeggia Hanno delimitato le bancarelle Lì sì, ma tanto la gente che cammina al corso Non hanno un metro di distanza Non c'è nessuno che controlla Quindi come si possono infettare nei bar Si possono infettare anche in una passeggiata qualsiasi Adesso secondo me non lo so Se è perché lo Stato deve fare cassa Devono multare a tutti i costi È più semplice venire da noi Però se noi iniziamo a tirare giù tutti la serranda Chi paga? I componenti della Commissione Bilancio Mirco Carloni della Lega e Jessica Marcozzi di Forza Italia Hanno abbandonato per protesta La Commissione regionale Bilancio Chiamata ad esprimersi sugli aiuti economici Legati all'emergenza Covid-19 Avevamo già denunciato Sostengono Carloni e Marcozzi Che la proposta di legge della Giunta Aveva gravi criticità A cominciare dal fatto che fosse tardiva e generica Con la pretesa di voler accontentare tutti Ma alla fine non accontenterà nessuno Ci sono delle categorie economiche colpite in modo drammatico Dalla chiusura a cui offrire risposte concrete Spiegano mentre questa proposta non aiuterà Né le imprese che hanno subito un lucro cessante Né tantomeno coloro che vogliono ripartire Creare valore e occupazione Siamo di fronte, concludono i consiglieri di minoranza Ad un provvedimento tardivo Che appunto non accontenterà nessuno E che servirà piuttosto alla Giunta Per farsi la prossima campagna elettorale Per le elezioni regionali Con slogan senza sostanza E adesso torniamo a parlare del biodigestore Perché dopo le accuse del segretario Del partito democratico Alberto Bacchiocchi Che ieri aveva messo in discussione La fiducia al sindaco e alla sua lista Oggi è arrivata la replica del primo cittadino Non mi faccio commissariare da un politico Ha detto seri Questa fuga in avanti di Marche Multiservizi Per realizzare l'impianto a Urbino Non si può tollerare Il futuro di Aset invece Non è in alcun modo a rischio Mette anche in discussione la fiducia E un'eventuale prosecuzione di questo rapporto Beh dico intanto Io con la gente Ho messo sempre la faccia su tutte le scelte Anche quando sbaglio Perché poi qui nessuno è perfetto Si può anche sbagliare E la faccia io ce la metto sempre Io non mi faccio certo commissariare da nessuno Specialmente da un commissario politico Perché qui non è che può essere un sindaco Staggio o qualcosa Come ho avuto modo di dire Anche nei nostri confronti Se c'è un commissario Non è politico È prefettizio semmai Quindi Ma questo penso La cosa sia rientrata Io posso capire anche L'umore Il nervosismo Che ci possono essere Ma ha sbagliato a impostare Completamente la visione Ma c'è una strategia Che deve essere condivisa Perché altrimenti ci si divide E nell'accordo Devono essere Nel piano Nella strategia complessiva C'è la realizzazione di due impianti Il TMB Che deve essere realizzato Nella vallata Del Foglia E il biodigestore Nell'altra vallata E con la copartecipazione Di entrambe le aziende Poi si può discutere Sulle quote Perché è normale Quindi viene meno Un accordo Politico E un accordo Anche tra le due aziende Quindi per quello che mi riguarda Questa fuga in avanti Non si può tollerare Quindi ci saranno Delle azioni conseguenti La prima è la politica Quindi Convoceremo un tavolo Sotto questo aspetto Per chiarire La questione Perché altrimenti Si faranno anche scelte diverse E un territorio Se vuole vincere le sfide Deve essere unito Se si divide Si indebolisce Ma noi abbiamo anche Tutti gli strumenti E tutte le capacità Per fare anche altre scelte Nell'interesse Della nostra città Aset è in pericolo A questo punto O gode comunque Di buona salute Al di là del digestore Guardi Mi verrebbe da dire Una parolaccia Usando un termine Per definire Certe affermazioni Anche su questo Non dobbiamo giocare Sulla paura degli altri Aset è un'azienda Che ha conti in regola È solida Tant'è che tutti la vogliono Quindi ci sarà un motivo Perché altrimenti Se una cosa non è in salute Non ci sarebbe tutto questo interesse Quindi Aset Ripeto Devono stare tranquilli Anche su questo Ci vuole prudenza Attenzione Perché non si scherza Quando si fanno certe affermazioni Siamo orgogliosi di questa azienda Per come è gestita Quindi Per quello che ci riguarda Questa fase Non ci sono Alcun tipo di pericolo Sindaco Questa sera C'è un consiglio comunale 5 Stelle Hanno un'interrogazione Su questo argomento Ma la tenuta politica Della sua giunta C'è? Le cose vanno chiarite Subito Come ho avuto modo Di fare Anche perché personalmente Non mi faccio mettere i piedi Sulla testa Da nessuno Poi ognuno si assume Le proprie responsabilità Per quello che riguarda L'interrogazione 5 Stelle È normale Fra l'altro 5 Stelle Non condividevano Certi percorsi Ma sono d'accordo E condividono L'importanza Di impianti Di gestore Che sta in un'economia Circolare Che sono un valore Per il territorio E per i cittadini E nel centro storico Di Fano Sono previste Alcune nuove zone A traffico limitato Ma anche la pedonalizzazione Di alcune vie Da metà settembre Partirà Questo progetto Sperimentale Che prevede Anche un cambiamento Drastico In piazza Andrea Costa Diventerà Libra Dalle auto E a disposizione Dei commercianti Un centro storico Sempre più A misura di persona Dove si potrà Passeggiare In tranquillità In una sorta Di grande salotto A cielo aperto Libero da smog E da auto La giunta di Fano Ha approvato La proposta Dell'assessore Fabio Latonelli Tra le novità Più importanti Oltre all'estensione Della ZTL C'è quella Di piazza Andrea Costa Che seguendo L'esempio Di piazza 20 settembre Verrà chiusa Al traffico Quasi il 90% Del nostro centro storico È già in ZTL Noi aumenteremo Quest'area Includendo Piazza Andrea Costa E Via Nolfi Lato Nord Quindi da via Arco d'Augusto Fino al parcheggio Della Rocca Malatestiana Potranno accederci Solo i residenti Attraverso il permesso E gli operatori Per il carico e scarico Quindi Piazza Andrea Costa Verrà restituita Alle persone Già moltissimi Esercenti Di questa piazza Hanno chiesto L'estensione Del suolo pubblico Che noi Come amministrazione Abbiamo già Deliberato Di concedere Questo spazio E siamo molto Contenti di questo Perché questa area È molto Ha del potenziale È molto bella E deve essere Assolutamente Valorizzata Rimane invariato Invece il mercato Mattutino Che continuerà Il suo regolare Svolgimento Nell'ottica Di una città Più sostenibile Un altro importante Intervento Riguarda poi La pedonalizzazione A fascio oraria Di alcune vie del centro Le principali sono Corso Matteotti Via Bovio Via Arco d'Augusto Piazza Andrea Costa Piazza 20 Settembre Via Ugolino De Pili Via San Francesco D'Assisi E parte di Via Garibaldi Per pedonalizzazione Si intende A fascia oraria Quindi solamente Dalle 19 Alle 24 I residenti Non potranno transitare In quelle determinate vie La maggior parte La maggior parte Dei residenti Riuscirà ad accedere Nei propri garage O per il carico e scarico Perché abbiamo creato Delle situazioni In cui loro riusciranno A transitare Fatta eccezione Per queste vie Che vedete Nella mappa Tutte le linee gialle Sono le aree Dove non si potrà transitare Ci saranno inoltre Due modifiche Alla viabilità L'inversione di marcia Di via Francesco De Borgoggelli E via Alessandrini Ma solo nel tratto Davanti ai giardini radicioni La sperimentazione Che partirà Da metà settembre Fino alla fine dell'anno È stata condivisa Con gli operatori Spiegatonelli E sarà monitorata Per valutare Le azioni successive Già molte città Già da tempo Stanno lavorando Sulle pedonalizzazioni Di certe aree Quindi non è niente di nuovo Ma è un grande passo Per la nostra città A Sassonia di Fano Invece la notte scorsa È arrivato Il motopontone Per la posa Delle scogliere La ripresa dei lavori Era stata annunciata Dal sindaco Seri Dall'assessore Cristian Fanesi Dal vicepresidente Dell'Assemblea Legislativa Delle Marche Renato Claudio Minardi Che si era impegnato Perché fossero approvati I finanziamenti Questa prima fase Iniziata a metà maggio E poi interrotta Per qualche giorno Prevede la realizzazione Della prima barriera All'altezza Di Bagni Maurizio Il comune Ha chiesto E ottenuto Dalla regione Una proroga Per proseguire I lavori Fino al prossimo 15 giugno Giorni festivi esclusi Dopo l'estate Poi si proseguirà Con le altre due scogliere Rimanenti Di fronte a Bagni Gabriele E a Bagni Carlo Per concludere così La protezione Di quel tratto di costa Fino al porto E dopo L'interruzione Imposta Dall'emergenza sanitaria All'Arzilla di Fano Sono ripartiti I lavori Per la vasca Di prima pioggia L'intervento Ha l'obiettivo Di riqualificare Le acque di bagnazione Servizio di Lino Balestra Sono ripresi Dopo l'interruzione Imposta Dall'emergenza sanitaria I lavori Per la realizzazione Da parte di Aset Della valasca Di prima pioggia In prossimità Della foce Del torrente Arzilla L'emergenza Covid-19 Ha costretto In via cautelativa A sospendere Lo scorso 8 marzo I lavori avviati A dicembre Del 2019 Una volta Ultimata Questa opera Avrà il compito Di intercettare In caso di abbondanti piogge Le acque del torrente Arzilla Che si riversano Così in mare In questo modo Si eviteranno I divieti di balneazione In questo tratto di costa Per eccesso Di carica batterica Un progetto A cui collaborano CNR Università di Urbino Regione Marche Regione Abruzzo E che ha anche Una valenza comunitaria Visto che viene condiviso Con altri stati Che si affacciano Sul bacino del Mediterraneo A me piace ricordare Che questo è un intervento Importante Anche dal punto di vista Economico E dentro questo contesto C'è un contributo Importante Che il Comune di Fano Attraverso Aset È riuscito Ad ottenere Dall'Europa In partenariato Con altri enti locali Della Croazia In particolare Con la provincia Di Spalato Che ha consentito Di recuperare Quasi mezzo milione Di euro 493 mila euro Con il progetto Watercare Che contribuiscono Alla realizzazione Di quest'opera Che è molto avanzata Dal punto di vista Tecnologico E che permetterà Di dare un contributo Importante Non solo all'ambiente Ma anche al turismo Della nostra città A maggio È stato infine Possibile riprendere Quindi i lavori Di escavazione Della vasca E le previsioni Sono quelle Di entrata in funzione A pieno regime Dell'impianto Per l'estate 2021 Una delle Diciamo Degli elementi Che determinavano problemi Sicuramente Era L'attuale Impianto Di scolmo Esistente Vicino alla foce Del fiume Che pertanto Alimentava Con Inquinanti Di tipo organico La foce E poteva dare Problematiche Di balneazione Chiaramente Con la vasca In funzione Diciamo La gran parte Di quest'acqua Verrà accumulata E poi Rinviata All'impianto Di depurazione Nelle 48 ore Successive Chiaramente Diminuendo E abbattendo In maniera significativa Il contributo Di inquinamento Ambientale Dal sistema Fognario Rimaniamo a Fano Perché sabato 30 maggio Alle ore 17 Riaprono Al pubblico Il museo archeologico E la pinacoteca Del palazzo Malatestiano L'assessorato Alla cultura Ha lavorato In queste settimane Per la ripartenza Con modalità A garantire La massima sicurezza Dei visitatori Nel rispetto Della normativa Vigente L'ingresso Al museo Sarà gratuito Per tutto il mese Di giugno Mentre Per il periodo Estivo Saranno Programmate Attività Di valorizzazione Del patrimonio Museale Con un calendario Di iniziative Per la fruizione Degli spazi Non solo Da remoto E quindi Attraverso contenuti Digitali Ma anche In presenza Per la fruizione In sicurezza Del museo Sarà obbligatoria La prenotazione Telefonica Oppure via mail E occorrerà Presentarsi Muniti di mascherina L'ingresso Alla sede Avverrà in maniera Contingentata E non potrà Superare Le 13 presenze Ogni mezz'ora Vi ricordo Che lunedì prossimo Torna Primo Cittadino Sarà ospite Il sindaco Di Senigallia Maurizio Mangialardi Se vorrete Intervenire in diretta Potete contattare I numeri Che vedete In questo momento In sovrimpressione E tra poco Andrà in onda La prima puntata Del nuovo programma Colli al Metauro Riparte dalla bellezza Per 5 serate Ogni giovedì Vi proporremo Un nuovo format Dedicato alla musica Di artisti locali Alle bellezze Di 5 borghi Appunto Del comune di Colli al Metauro Vi ringrazio Per l'ascolto E buona serata Con i programmi Di Fanu TV Arrivederci Per l'ascolto